Un volume presentato oggi a Ferrara per parlare dei 50 anni di storia di talassemia. Ferrara, un percorso che però è cominciato tanti anni fa con l'Università di Bologna e con il Dipartimento di Psicologia. Sì, è cominciato 30 anni fa esattamente, nel 1993, quando il professor Vullo venne a cercarmi, io ero allora al Dipartimento di Scienze dell'Educazione per chiedermi di fare una ricerca sull'attività che lui stava svolgendo a Ferrara con i pazienti talassemici, con i ragazzi, con i adolescenti e per dare un supporto metodologicamente fondato per dare evidenza, supporto a quello che lui credeva, che era il fatto che le cure che lui stava dando, che venivano dato a lui, dalla sua equip, ai ragazzi con talassemia a Ferrara, davano dei risultati positivi. Quello che secondo me è un dato molto interessante e molto importante è aver trovato che stanno invecchiando, come dire, così come sta invecchiando la popolazione della stessa età, quindi affrontando gli stessi problemi, con gli stessi ostacoli che ci sono. Di fronte a dei pazienti che hanno una patologia cronica, che inizia dai primi anni di vita, non può che essere il paziente al centro delle terapie che facciamo per migliorare le loro qualità di vita, per rendere gli accessi in ospedale il meno numerosi possibile, per consentirgli quindi una vita al di fuori dell'ospedale e, d'altra parte, devono essere i pazienti che collaborano con noi in che cosa? In particolare nell'attuazione delle ricerche cliniche, nelle sperimentazioni. Io sono a Ferrara solo da un anno, quindi ripercorro le forme dei giganti. Per me è stato un onore accettare questo incarico alla direzione di un centro storico, il primo in Italia che ha capito fin dalla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, che per i pazienti talassemici occorreva qualcosa di più. E quindi sto provando a ripercorrere una filosofia che vede al centro il paziente e i suoi bisogni, così come ci ha insegnato il professor Bullo. L'importanza di un'associazione per la lotta alla talassemia che porta il nome di suo marito, Rino Bullo. Sì, sono molto onorata di questa decisione, di aggiungere il nome di mio marito al nome dell'associazione che secondo lui in partenza era assolutamente necessaria per produrre quell'alleanza terapeutica che doveva portare i pazienti a una gestione ordinata e molto disciplinata della loro malattia, ma anche la capacità di affrontare una vita, fra virgolette, normale per questi ragazzi che erano allora a lungo ricoverati in ospedale e con scarse possibilità di vita. Adesso il nostro presidente, dico nostro perché anche io sono socio naturalmente, è il nostro presidente e nonno a 60 anni. Oggi è stata donata anche una targa dal comune di Ferrara, una targa per riconoscere il ruolo della vostra associazione. Io credo che sì, è una cosa molto importante perché appunto noi siamo stati nel 74, penso dei precursori dell'associazionismo a Ferrara e questo è una targa che secondo me deve essere un orgoglio proprio anche per la famiglia del ragioniero Barbieri perché è stata una persona che è molto lungimirante e credo che sia anche una targa per Valentino Orlandi attualmente perché credo che sia veramente un esempio di dedizione assoluta alla causa che un presidente di associazione ha nei confronti appunto di quello che è lo statuto e tutti gli obiettivi della propria associazione.